Un saluto da Benevento! Questo è l'effetto strega! Siamo appena arrivati a Benevento e cominciamo il nostro tour! Tutti dai territori che erano a Benevento su noi invece vediamo delle niche, quindi sono delle vittorie alate che incombino dei saputrici d'onore libri dell'imperatore Soiano. Iniziamo la nostra visita guidata con la città di Benevento. Questa invece è la famosa chiesa di Santa Sofia di Benevento. Questa è la famosa chiesa di Santa Sofia di Benevento. Certificare e confermare quello che era il loro status politico del gioco. Ci troviamo all'interno del Duomo di Benevento. Abbiamo appena visitato il Duomo di Benevento e adesso ci stiamo spostando per fare una bella degustazione del liquore strega. Abbiamo appena fatto una degustazione del liquore strega che non è che alcuni dolcetti tipici. E qui vi passeggiamo anche il compleanno. Eccoci qui, siamo appena arrivati alla Sagra di Montella. A Montella. Abbiamo le streghette. E dalla Puglia salutiamo anche il gruppo Tour Eventi Italia. Siamo pronti per la visita di Salerno. Ci troviamo a Salerno con Tour Eventi Italia. Siamo all'interno dei vincoli di Salerno. Siamo all'interno dei vincoli di Salerno. Siamo all'interno della tomba di San Matteo. Sotto il Duomo di Salerno. Siamo appena arrivati a Viedri. Da qui possiamo ammirare la costiera Amalfitana. T "' аб daughters'います". Ci troviamo a Viedri. Miancini dei vinti sottosti. Grazie a tutti.